Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita intorno alle 10.23 di stamane nella zona di Ricigliano, Salerno, con ipocentro a 9 chilometri di profondità. Il sisma è stato distintamente avvertito a Potenza e in diversi comuni della provincia. Muro Lucano, Balvano, Castelgrande, Bella, Vietri di Potenza, Baragiano, Pesco Pagano, Sanfele, Rapone, Savoia di Lucania, Ruvo del Monte, Picerno. Non si registrano danni.